Le associazioni pazienti sono dei partner molto importanti per noi, innanzitutto perché dialogando con i pazienti noi siamo in grado di intercettare meglio i bisogni e quindi sia per quanto riguarda l'aspetto trombotico che per quanto riguarda l'aspetto dell'emostasi emorragico, noi cerchiamo di dialogare un po' con tutti e questo naturalmente serve ad avvicinarci, a comprenderci meglio e anche per quanto riguarda noi professionisti a migliorare l'approccio alle condizioni differenti e alla gestione delle situazioni più disparate. Poi c'è anche l'aspetto sociale perché molte di queste patologie prevedono dei trattamenti prolungati o dei follow up, cioè dei monitoraggi continui e quindi naturalmente questi pazienti talvolta hanno difficoltà ad individuare dei centri e degli interlocutori che siano attenti anche alle varie fasi della loro vita, ivi compresi dicevo prima i bisogni sociali relativi per esempio al rimborso di alcune prestazioni e quindi al follow up di queste condizioni croniche. Sappiamo bene che oggi c'è molto bisogno di sviluppare il territorio, di sviluppare appunto tutte quelle strutture che servono alla presa in carico di questi pazienti. Molti di noi lavorano sul territorio ma molti altri in centri specializzati, in ospedali, in centri di terzo livello e quindi formare delle reti è estremamente importante. Le reti richiedono quindi l'interazione di tutti, la formazione delle reti, richiedono gli amministratori, richiedono le società scientifiche e richiedono molto, moltissimo le associazioni pazienti. La commissione CET è una commissione che ho avuto sin qui l'onore di coordinare, adesso passerò il testimone per ragioni di regolamento, che è una neonata commissione della CISET che vuole promuovere la conoscenza e l'importanza degli esperti in emostasi e trombosi. L'acronimo sta per commissione esperto in emostasi e trombosi e questa commissione cerca appunto di far conoscere tutte le nostre attività, comprese le attività di interazione con i pazienti. Una delle mission è appunto la collaborazione stretta con i pazienti, vuole far conoscere la nostra disciplina agli amministratori e vuole attrarre l'attenzione degli stessi amministratori alla necessità di istituire in maniera formale presso alcuni ospedali e anche sul territorio dei centri che siano di riferimento per tutti i pazienti che abbiano condizioni patologiche relative sia alla trombosi che all'emorragia.